E' un'intervista piena, densa, intensa, piacevole, ma anche molto illuminante quella che la bellissima Serena Grandi avrebbe rilasciato al quotidiano libero. La famosa attrice con sexy degli anni 70 e 80 sarebbe pronta, infatti, una volta per tutte a dedicarsi al mondo della politica, andando probabilmente, e ci metto questa parola, questo avverbio di tempo, a abbandonare il mondo del cinema e della televisione italiana. Infatti, tra le ultime confessioni che avrebbe fatto al libero, avrebbe parlato della sua grandissima passione per il buon Matteo Salvini, attuale ministro dell'interno italiano, fino ad arrivare però a un pesante attacco che avrebbe rivolto alla bellissima Claudia Kohl in difesa del buon Tinto Brass, di cui vi ricordo avrebbe subito un malore, ma per fortuna sta bene, io e Vegito e è stato dimesso dall'ospedale in cui si trovava ubicato. Vi ringrazio per l'ascolto, per la visione di questo video di oggi, iscrivetevi se vi va, commentate. Un salutone caro da parte mia, narratore italiano di YouTube Italia. Ciao e al prossimo video. Grazie.